Amici di Accord e di chitarre, salve a tutti da Alex Massari, oggi siamo qui in redazione per testare questo nuovo arrivo, una chitarra Dusemberg di 49 GT. GT sta per Gol Top, chiaramente riferito alla finitura dello strumento, che dichiara di derivazione Les Paul, risulta come un'ottima interpretazione personale di questa chitarra particolarmente conosciuta. Andiamo a sentire come suona da pulita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo era il suono pulito, ma manteniamo questa linea sentendo qualche parte con un sapore leggermente più funk. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il suono più saturo e come si comporta la D49 in distorsione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.